dell'associazione. Ad Agrigento, al liceo Leonardo, il dottor Salvatore Baiamonte ha presentato il suo libro La dieta perfetta, pubblicato in Italia dalla casa editrice Hobby & Work, l'entrevista di Carmelo Lazzaro. Dal libro all'incontro diretto, faccia a faccia con gli studenti, quanto è importante parlare di nutrizione, parlare di alimentazione con loro? Innanzitutto io desidero ringraziare il signor Preside e il professor Guido Pangucci per avermi dato la possibilità di presentare il libro agli studenti del liceo, che è lo stesso liceo dove mi sono diplomato anni fa. Io e il signor Preside abbiamo ritenuto importante dare un'educazione elementare ai giovani, soprattutto agli studenti di primo e secondo anno, proprio perché un'educazione elementare in questi anni può essere molto utile. Però il mio libro non è solamente utile per i primi due anni, ma è un libro, come ho detto poco fa agli studenti, che li accompagna quando saranno maggioretti, quando saranno sposati e quando saranno nonni. Perché ho detto di credere al mio libro? Ora si parla del metodo dietetico del dottor Baiamonte, perché questo libro, che è stato tradotto in Francia da una casedrice prestigiosa che pubblica per Béminoble, è stata fondata per Béminoble, oggi, per esempio, in Canada, in Amazon Canada, ha superato addirittura Paul Davis, che è un famoso scienziato e scrittore, che in Italia pubblica per l'Amontatore. Ebbene, il mio libro si trova al primo posto e lui all'ottavo posto, per quanto riguarda Amazon Canada. Insomma, il metodo Baiamonte sta avendo un consenso soprattutto internazionale. E quindi ora io questo metodo, questo metodo di metodologia scientifica, che propone il mio metodo, lo propongo ai ragazzi con la speranza che li possa accompagnare per tutta la vita. Per cosa si distingue il metodo Baiamonte? Ecco, io nel lugio faccio vedere ai ragazzi un faro. Ebbene, il metodo Baiamonte rispetto alla dieta zona, alla dieta low carb, è un metodo che dà una rotta, indica come tracciare una rotta, ma questa rotta non la seguono da solo, la seguono grazie all'alleato, a loro grande amico, soprattutto angelo custode, che è il metabolismo basale. La dieta perfetta esiste dal punto di vista di bilanciamento energetico, cioè il mio libro propone un bilanciamento ideale dal punto di vista energetico. è chiaro che non possono essere indicati gli alimenti perfetti per dare una possibilità di sopravvivere al gongo e mantenersi in forma. Io ve lo consiglio di girare tutti gli alimenti. Propongo solo nel metodo di attuare un bilanciamento dietetico ideale, come di ancora perfetto. Anche in Italia, oltre che in America, nei paesi anglosassoni, l'ombesità è diventata un problema per i giovani. Il libro che viene presentato oggi ai nostri alunni si intitola La dieta perfetta. Io ho avuto modo di sfogliarlo e per la verità contiene diversi suggerimenti e consigli che sembrerebbero banali, ovvi, ma sono spesso inascoltate dai giovani. Un'alimentazione più sana e più corretta può aiutarli a evitare i guasti all'organismo che provocano una segmentazione troppo ricca di grassi o comunque disordinata sicuramente e che non tiene conto di un equilibrato apporto di tutte le sostanze che possono far bene alla crescita. Ed eccoci allo sport, iniziamo con il calcio. Nel campionato di Serie D la Nissa ha vinto in trasferta 1-0 contro il Santa...